Da architetto come ha seguito questi incontri del PSR? Per me sono stati interessanti perché ho capito quali sono le modalità utili per tenersi informati. Sì, avevo già cercato di capire come fossero organizzati altri bandi della regione, bandi europei eccetera, però questi in particolare li ho conosciuti meglio oggi in questa occasione.